Bisogna rispettare le leggi e soprattutto bisogna avere amore alla propria salute e avere anche rispetto delle persone che ho accanto perché il fumo fa male anche a chi ho accanto. Quindi io spero e credo passerà il messaggio positivo al di là del limite. Il liceo artistico di Arezzo Piero della Francesca ha deciso di dire stop al fumo e lo farà con appene severe. È infatti prevista la sospensione per tutti gli studenti che verranno sorpresi a fumarsi una sigaretta. Noi abbiamo deciso di far rispettare una legge e per un motivo molto semplice, prima di tutto perché è una legge dello Stato e poi c'è un altro motivo molto importante. In Italia 80.000 persone l'anno muoiono per colpa del fumo e allora in un mondo dove vogliamo, io come dirigente e la scuola vuol tutelare i ragazzi, se non altro all'interno della scuola vuol creare le condizioni per un corretto stile di vita. Lo scorso anno, sempre al liceo artistico, era stato inscenato addirittura il funerale delle sigarette. I ragazzi che avevano preso parte all'iniziativa si erano così messi in fila di fronte ad un cestino, gettando una alla volta pacchetti o sigarette. I ragazzi devono sapere che durante l'arco delle attività didattiche, comprese nell'intervallo, compreso nel cambio dell'ora, in maniera molto semplice si rispetta una legge che prevede il divieto di fumo. Nessun ragazzo sarà danneggiato da questa punizione perché il primo che prende tre, perché sono tre, i giorni di sospensione, state tranquilli, che smette. Perché i ragazzi, ripeto, sono furbi, se non a volte sempre intelligenti, ma sicuramente furbi.